L'incidente mortale nella mattinata di mercoledì 17 luglio, poco prima delle 9.30, in via San Francesco, angolo via della Lumaca, arriva allo Canavese. Un'autocisterna, che stava svoltando in via della Lumaca, ha travolto una donna in bicicletta. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Castellamonte, una polizia locale e i vigili del fuoco di Ivrea. Purtroppo per la giovane donna, una 26enne di Rivarolo Canavese, non c'è stato più nulla da fare. Il medico legale ne ha constatato il decesso. Il conducente del mezzo pesante è sotto shock, un 43enne di Torino, e è stato trasportato all'ospedale di Cornier. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rivarolo Canavese. Sì, insomma, vediamo una foto. Io ho passato. Sento che se ti dica a Rio. Diceno. Diceno. Diceno, affatto. Diceno, affatto. Grazie a tutti